Sto partito? Sto registrando? Penso di sì. Ok ragazzi, buonasera, benvenuti e bentornati sul canale ragazzi. Vi faccio questo video per illustrarvi tutti i prodotti che ho e l'adesione al Black Friday. Qua faremo un'offerta del Black Friday che durerà tutta la settimana, quindi da lunedì a venerdì. Quindi lunedì, vediamo il numero che non mi ricordo, aspettate un secondo. Dal lunedì 25 novembre fino a venerdì 29 novembre. Quindi dal 25 al 29 compreso sconto del 20% su tutti i prodotti del negozio. Quindi parliamo di liquidi, piccoli, settore trimols, tutti gli aromi concentrati, ci saranno anche integrazioni. Hardware di vario tipo, anche la Blue, Herbal CBD, liquidi più grandi, scomposti o 70-30, arriveranno cose nuove anche qui. Abbiamo l'hardware entry level, atomizzatori, kit, box, batterie e altri liquidi piccoli. Anche su prodotti più costosi. Eccoli qua, atomizzatori di livello, insomma, di modder italiani e europei. Quindi, ripeto, il 20% di sconto con una spesa minima di 50 euro su tutti i prodotti, da lunedì a venerdì. Mentre per Joule, che è un po' più complicato, faremo uno sconto più piccolo del 15% solo di venerdì, l'ultimo giorno del Black Friday. Quindi, 15% su Joule, 20% sul resto di tutti i prodotti, spesa minima di 50 euro. Poi, facciamo da lunedì a venerdì sempre 50 più 50. Cosa significa? Con una spesa minima di 50 euro, avrete il 20% Black Friday, ok? Con 50 euro in più, quindi arrivando a 100 euro, il regalo avremo questo kit della One Two. Quindi, ho 5 pezzi disponibili, le prime 5 persone che entreranno da lunedì in poi e aderiranno all'offerta, quindi spesa minima di 50, sconto del 20%, altra spesa di 50 euro scontata del 20% e regalo una One Two, fine usaremento di questi 5 kit. Ragazzi, mi raccomando, vi aspettiamo, vi aspettiamo da lunedì in poi con il Black Friday Vaporcassia. Ciao!